Oggi ho fatto vedere una build a... Dario spaventosa, questo stava a fa' delve 10.000 stava a fa', 10.000 e passa, almeno mi sembrava 10.000, una build pazzesca con quella roba nuova replica, un mace che dà il 5% attacco, c'è un danno elementale per ogni punto resistenza che c'è in meno, in negativo, c'è una cosa pazzesca, quindi questo ha mangiato subito la foglia, ha fatto una build che c'è a meno 130, 150, insomma solo TheBianco fa 600k, o no, quasi un milione, erano lui e LauraBot praticamente, il tooltip gli segnava 10 milioni, gli segnava, quella naturalmente la nerferanno prima che arriva qua e la metteranno a... invece di fare 5%, anzi sicuramente la faranno diventare 5% ogni 10 punti di resistenza in meno, sicuramente. no, però l'idea è interessante perché comunque sì, io sapevo che dentro a... dentro a Delve il muro di ghiaccio era vincente, ma... non so se l'hai mai salata... è veribile il muro di ghiaccio, ti salva proprio il culo... ok, glacial war... c'è un modo che te ne casti, te metti in un punto sotto al Delve in cui c'hai tre... insomma, te poi chiude praticamente, no? te poi chiude, devi mettere una cifra di durability perché dura poco quel muro e ne devi mettere veramente tanta... poi casti, cioè tu stai dietro al muro e non ti tocca niente... a niente, non ti tocca nulla... e casti, questo spammava ragnetti e i spark quelli elettrici che... adesso c'è pure la MTX ragnetti... ma quanti ne faceva una casa mostruosa, si riempiva... erano casamente tanti e sembrava acqua che si infilava dappertutto praticamente... ne fa un triliardo, ne fa... ognuno fa dieci milioni, fa... comunque si vedeva che usavano il ruolo... e si il bot e il... insomma quello che vede dosavano i mosse perché ogni tanto si fermavano, si facevano i muri... e... e se per... perché dovevano farse il mostro, forse il boss... boss e il mostro giallo che lì a diecimila terve penso c'avrà... un miliardo e mezzo di HP, c'avrà... eh si... io ma qui che faccia secondo me? che uso... che uso... non c'è più... non c'è più... non c'è più... non c'è più... io non lo so che devo... ci ha messo già come fa sbrocca quando fa così... ma che devo fa? ok vado e poi... dove vado? ok vado... vado... oh... cc... quando vado vado qua? no... tipo... Ecco Ancora Non c'è rimasso Ho fatto mezza, perde mezza vita Non scrivi, ce ne fanno mancosa, schiaccia io quando stai sopra i pupazzi Già io Ma c'è Io, ragazzi Già solo soffi Qua? Pure questi, se dovevamo va Ok, se arrivo qua va bene Marco del cielo è andato Via se vede, via se vede Cazzo, non si vede un niente Qua E qua Qua? 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 un po' di zurca come è qua? ovviamente stracchio Eradicchio, eradicchio Che sta matta, eradicchio, che sta matta Vai, i 50 esalti Eradicchio, eradicchio Eradicchio, eradicchio 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 Da non ho ninguém E quando c'è rivela basso. grazie a tutti. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 辦llo. se rialza la nuova pista, cosa non capita dietro alle cose è cascato sto figlio di una mignotta un carbario sta stronzata un carbario questo non era mezzo per caricare la skin un carbario non c'è niente radicchio, radicchio ma io non ho capito perché non c'è il puntatore sempre a sto gioco beh, non c'è il pointer allucinante c'è dopo un secondo che tu hai iniziato a caricare la skin non c'è niente non c'è niente patata, patata, patata importante la mia patata la mia patata devo un sacco di ingredienti ma qui che te stai inventando non c'è niente 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 ricorda che la prima ah sei la mia witness raptor dice wait raptor dice the wind the wind the wind the wind e a dove? io mi butto non c'è niente ma c'è niente cosa mi passasse, no? cazzo No! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding You're crazy, kid You must have known about the wind current There's no way you would have jumped otherwise The wind takes care of those who have courage Now sit still and await your arrest Like a good little boy Freeze What's the burn? Freeze Freeze Just you watch You're open I'll have my revenge Eventually What's the hurry? Dodge this Junk it, crossbite Picked the wrong test subject Cool it All right, I got him I only know it would be In other words Little did he know It was all thanks to your sharp thinking At the end of the What you did now It was I kind of Well, you see But I always Let's go and get a copy of the real gliding manual From acting Grandmaster Jeans I'll head off first Once you're back She just can't sit still, can't she? Guess that's why she's the outrider When this is all done and dusted Let's head to the cathedral in Mondstadt Getting this gliding license has turned into quite the adventure Bye, Mondstadt Sit down Un secundo Porca puttana Rica Cioè Luginante Questo gioco Mermarte Testa Te fanno venire Cari sali qua su Un'altra Porta Manage La puttana Manage A rifatte 700 Of course Crying I Oh How I I I se io metto un punto non interesse, ma perchè non confare? sta su per forza si insomma, te pensi ecco ma ti rendi conto? ti rendi conto del cerbello di questi come sta? ci rendi conto? ci rendi conto del cerbello di questi come sta? cosa sta messa a far entrare? autocombustione bella bella, io devo dire una cosa bella una giornata per fare una guazzia una passaggio segreto aperto ma non ci puoi andare ok vabbè non amo che la sorella va andiamo suor Liliana che è un po' pienotta, non mi piace Victoria invece viene a buttare la cate ma non mi piace cosa sta no te tu tu ti 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 Uff, adesso Sede Che setta fai parte Che setta fai parte Eppo No, se hace la scicola oh finalmente posso usare questo teleport ma questo che vende? uuu ci vado subito ciò salgono i cuori mervino ma che c'è mervino e indossar vino oh trea che a casa tu non voglio solo vedere che c'è vende effe posso andare avanti damo un vino ai recruti in guida andate batten ardeno eeeh probleme adesso Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel's Share. Anything the Knights can do for you? Go ahead and pick up some new pieces from Shokes' blacksmith. I didn't get caught buying alcohol. So, buddy. So, yeah. Come in, take a seat. We have a few specials. Come back, Allie. I shouldn't get caught buying alcohol. Come in, take a seat. Go ahead and pick up some new pieces from Shokes' blacksmith. Ah, il gioielliere. Attenzione, attenzione. Se lo stava su una cosa. Se non c'è. Bello, un 2022, vi target us. Oh, questo è un terzo. Oh, il felicità. No. Come in, take andour. E'S internship? No. Come in, mettere mistanding. Come in, mittlieye. Cioè mi devo mettere pure a sede Non balli Niente il liquoraio era già sola Sono andato là e mi ha detto eh ogni tanto ci attaccano le caromane dei liquori Cioè mi devo mettere un po' di più wow yes come take a look there will definitely be something that catches your eye ciao no nee I've been trying to mix do you have any animals sigils with you more to the point any animals animal I think a dead show Ah, dai. È il jobbio, sinceramente non ho. Troppo il sacco. Oh, meno male, una quest che dura quanto deve durare Oh, finalmente Shit Oscatel Vai tu Che stai a fare? Che te ne fai in giro così? Stai a perdonare la taverna Buon partito, sai? Passare 8-10 10-10 Dove sei letto il carattere? Perché si stoccavano un po' Ti vedremo a fa' Perchè non ci va a fare? Non ci va a fare? selezionare... vai cooking wow cioè gli ingredienti ce li mette proprio tutti dentro la pentola da paura stick ora che è bollita va bollita ma i funghi già mesofeni, ma qual è possibile? quanti? quanti? quanti davanti? qui serve il latte jam serve lo zucchero il jam potremmo farlo grazie 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 ciao 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 sa come si sbloccano i desideri. Quando ti dicevano che ti avessi scelto dei desideri, eh, ora hanno fatto il gioco con i desideri, ma per fare i desideri, manco più desideri che manco puoi più desiderare, perché pure i desideri devi comprare anche i soldi, capito? neanche il desiderio puoi averci, proprio il zero libido, mannaggia giuda lì, questa è quattro stelle, fischia botti, questa è quattro fischia botti, questa è quattro fischia botti, swish, swish! Certo, due passaggi, questi due passaggi, uno solo, anzi doppio click teleport, perché no, perché no... perché no... yes what's your uh i'd expect a more professional attitude from your diplomats yet here you it's not as crazy as you make it sound fine that's enough negotiation for today at this date i'll be sure to oh you're back thanks for your the aftermath how delegation from leeway harbor or in azuma city shneznaia their envoys oh wait infamous is more i don't the cryo i don't believe they have monstats best interests what is it oh we shouldn't discuss important matters out in the open monstat is independent and does not belong to any other nation in fact despite being referred to as a city monstat is a nation the snajnaia sfatui are known to be the most aggressive diplomats in tivet it's a crystal embedded with some kind of power lisa are you able to analyze it let me take a look i can see impurities in the crystal no i'm sorry i can't make a proper analysis at the moment right understood i'll notify you all if i make though i wouldn't go getting your hopes up they were incredibly ancient texts not to mention gosh the impurities in the crystal it are oh i see the impurity it's strange though you have elemental abilities as well but don't seem to be affected in the same way anyway the crystal would be better left in the hands of my cutie so 12 ore che schiaccio per saltare e skippare me senti sto tutto il tempo a fa cosi il gioco non c'è praticamente è tutto un blablablabla poi dice i giochi non ci gioca nessuno hai fatto come si chiamano quei libri che ti leggono qui manco ti leggono lo devi leggere da solo gli audiolibri hanno fatto l'audiogioco ecco che hanno fatto loro questo è l'audiogioco basta mi sono salvato il gioco è un bla 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 inutile, più handless poca azione un sacco di cianfruzai e un sacco di fokusau non è proprio un rpg esce da 5 chiudiamo